Pertice regionale questa mattina in regione tra l'assessore al lavoro Marco Lucchetti e le organizzazioni sindacali del gruppo Ferretti, una sorta di ricognizione sulla situazione dell'azienda leader mondiale degli yacht di lusso. Dopo l'incontro del 18 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico saranno valutati gli esiti e come procedere anche in accordo con la regione Emilia Romagna. L'obiettivo è quello di salvaguardare una realtà produttiva così rilevante e mantenere inalterati i livelli occupazionali. L'azienda che nel 2012 è stata rilevata al 75% da un gruppo cinese ha sede e stabilimenti produttivi in Italia. A Sarnico, alla Spezia, a Cattolica, a Forlì, Centocroci di Mondolfo, conta 1.200 dipendenti circa di cui 282 a Mondolfo dove è stata trasferita l'alta tecnologia che prevede la progettazione, l'ingegneria e l'architettura di barche in vetro resina. Questa mattina abbiamo fatto una riconosizione della situazione, abbiamo fatto il punto sulla vertenza. Il sindacato ritiene di coinvolgere le istituzioni per andare avanti nelle trattative, hanno fatto una richiesta anche al Ministero dell'Industria, probabilmente saranno coinvolte anche le regioni, noi seguiremo da vicino tutte le fasi di questa vertenza in modo tale da supportare le parti per trovare un accordo di sviluppo del gruppo Ferretti perché è un momento particolarmente delicato nella sua attività. Noi ci impegniamo a seguire attentamente e speriamo che le parti riescano a trovare un accordo positivo soprattutto per difendere l'occupazione.